A Presulvia ha badolato Marina un progetto per la prima infanzia volto a contrastare la povertà educativa minorile. Ecco, quali sono i punti qualificanti dello stesso? Con grande orgoglio oggi che presento questo progetto, un progetto promosso dalla Fondazione Mission Bambini, finanziato dalla Fondazione Con i Bambini, un progetto istituito e costituito nel Fondo Nazionale per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile. Nasce questo progetto e si sviluppa in ben otto regioni, i partner sono dodici. Noi della cooperativa La Cicogna gestiamo il progetto su badolato e il comprensorio dell'Unione dei Comuni, assieme ai partner che ci hanno sostenuto in questo cammino per arrivare a questo importante risultato. I partner del progetto, che voglio ringraziare perché questo non è un obiettivo raggiunto solo da parte nostra, ma è un obiettivo importante raggiunto per l'intera comunità. Sono Slow Food Calabria, l'Associazione Mamma di Badolato, l'Unione dei Comuni, l'ITC Tommaso Campanella che ha fornito materialmente l'ambiente dove verrà poi sviluppato il progetto nel corso dei due anni, e ultimo ma non ultimo per importanza è il patrocinio del Comune di Badolato. Ci tengo molto a ringraziare il sindaco Mannello e la dottoressa Trapasso, perché grazie a loro si è potuto arrivare a questo importante risultato. È un progetto importante il Badisco perché parliamo proprio di pagare materialmente la retta a questi bambini che sono entrati nella graduatoria stilata in base alle caratteristiche richieste dal bando, il bando preparato dall'Unione dei Comuni. Al momento i bambini sono in dieci, speriamo nel tempo di riuscire ad ampliarlo, se tutto andrà come speriamo, e sono felice perché siamo gli unici nella Regione Calabria ad essere arrivati a questo risultato. La nostra Regione è una delle Regioni principali come povretà educativa minorile, purtroppo, quindi c'è bisogno di sostenere questi bambini. Mi preme dire una cosa importantissima, questo non è un progetto finalizzato solo ai bambini, nel senso che non parliamo solo di un baby parking dove lasciare i bambini. Il progetto abbraccerà e prenderà per mano proprio materialmente le famiglie, perché ci sarà una rete proprio costituita di cui si occuperà una persona del progetto, nello specifico Guerino Nistico, che praticamente abbraccerà, prepareremo e preparerà, una serie di laboratori, laboratori che verranno sviluppati assieme alle famiglie mensilmente e dovranno partecipare le famiglie perché, come ribadisco, è un sostegno proprio alle famiglie nella loro totalità. Voglio fare i nomi delle persone che mi hanno aiutato e che ci hanno aiutato in questo, Francesca Saraco dell'Associazione Mama, Lucia Sica, la responsabile delle educatrici, Armando Bianco della cooperativa La Cicogna, Gennaro Esposito della cooperativa La Cicogna, la dottoressa Giussi Sacca e Vincenzo Larocca dell'Unione dei Comuni e anche la scuola per quello che riguarda l'accoglienza che ci è stata riservata. Il progetto Servizi 06, Passaporto per il Futuro, è fortemente sostenuto dal Comune di Badolato. Sì, pieno sostegno, anche perché in realtà è tanto che noi pensavamo a un asilo, tra virgolette, nido. Questa è una sezione primavera. Ci è stata presentata questa occasione con questo progetto, abbiamo pensato di coglierla al volo. Io poi sono particolarmente, come dire, forse anche per deformazione professionale, sono particolarmente legata alla scuola e a tutto ciò che è scuola. Questa è scuola ed è importante già da piccoli abituare i bambini a frequentare un ambiente scolastico, a interagire con gli altri, perché poi questo è tutto lavoro fatto per il futuro. Ce lo ritroviamo poi fatto noi insegnanti anche quando ci arriveranno poi nelle scuole primarie, nella scuola secondaria e ci stiamo portando avanti. Avevo proprio detto sin dall'inizio che mi sarei presa cura della scuola, perché è una cosa a cui credo e a cui tengo veramente in modo particolare. Ci proviamo, le difficoltà sono tante ovviamente. Avremmo voluto dei locali più grandi, purtroppo per il momento è questo. Vediamo come procede il progetto e insomma piena collaborazione siamo qua.